Sabato di febbraio Sei tu, che bel sabato di febbraio Aspetta che accendo la luce che ti vedi scuro Sono arrivati due pacchetti Due pacchetti E questo cinque E vai, va, ma questo di chi è? Questo è di Anna Smarr Naucio di Anna Smarr, ci ha fatto la tripletta No vabbè Ah ma però devi girare il pacco Perché c'è l'indirizzo Forse ho capito Ma che è? Ma sono Ma che cosa sono? Porta sigarette Porta Hitz e Aikos Sì, è quello Ehi, quello stavo dicendo Belli Ma sono Anni estremi estremi di Anna, chiamo a fare Che belli Bellissimi, quasi ci mettono le sigarette Ma stupendo Grazie Anna, vediamo Ma è uno mio e uno tuo Un giallo e un me Un blu quando mi vesto il blu Ancora Nel blu dipinto di blu Ma li proviamo Aspetta Aspetta che prendo le cose Sì Vediamo Prova Prova Vediamo Stupendo Si chiude Si chiude Si chiude Tutto Porta Sigarette Solo Porta Hitz Ma stupendo Grazie Anna Però guarda Il giallo ci sta bene Però anche il blu Pertanto me li prendo tutti e due Qua tutti e due Uno per me e uno per te Ha detto Anna Anna sono tutti e due i miei Arraggiateli Grazie Annuzza Ma stupendo Grazie cuore Comunque una cosa innovativa Devo dire Ora un altro video Per un altro regalo Per questo Metti un'altra follower Certo A tra poco Grazie Anna Stupendi Veramente belli Non li avevo mai visti Ma tu l'aveva visto Fossi la Clarissa Già Clarissa Che fumava pipa Saluta Ciao ragazzi A tra poco Con l'altro pacco